ciao a tutti cari iscritti al canale youtube di non aprite questo blog come state è un po che non faccio un video rivolto a chi segue questo canale chi segue non aprite questo blog che segue me da tanto tempo vi voglio faccio questo video perché vi voglio invitare a unirvi a me a noi questo weekend il 18 19 novembre a milano via paladini otto al santeria perché lì si svolge il drag me to first 3 il festival del cinema ora indipendente che ho creato insieme a chiara natalini in questo festival troverete cortometraggi italiani e stranieri molto molto belli di di ottima qualità sarà una masterclass con lucio besana sceneggiatore di the nest a classico horror story scrittore di libri horror ci sarà la proiezione di contamination gentilmente offerta da raspberry records ci sarà il banchetto di raspberry records con i suoi vinili di colonne sonore di film horror film e altre cose ci sarà il banchetto del drag me to fest con le magliette con le spille con un poster con i film con anche noi avremo dei film edizioni limited a prezzi mai visti per sostenere il festival per portare avanti questo progetto è il terzo anno che facciamo questo festival ed è andato sempre meglio e spero che possa andare ancora meglio quest'anno di se ci se vi piace questo progetto il progetto di non aperto questo blog se vi piace il cinema horror e siete vicini o comunque potete raggiungere milano in questi due giorni mi farebbe veramente piacere potervi incontrare e vedere che questo tipo di iniziative sono qualcosa di cui le persone bisogno che le persone cercano qualcosa che che manca e quindi potete tranquillamente andare intanto a vedere tutte le informazioni riguardanti il festival sul sito drag me to fest punto it ci sono tutte le descrizioni dei film che presenteremo e altre informazioni scrivetemi se avete bisogno io vi invito a continuare a supportare questo canale che comunque è attivo continuo a pubblicare recensioni di film in anteprima e non vi invito a supportare anche il drag me to fest che trovate su tutti i social instagram facebook youtube e lasciatemi poi un commento se avete qualcosa da dirvi niente non sempre contento di portare avanti questo progetto di portare avanti questo nuovo progetto insieme a chi era natalini del tramite fest invito a seguirmi soprattutto su twitch dove ci sono quasi tutti i giorni in live per discutere chiacchierare di cinema informarvi anche sulle nuove uscite e niente poi ho voluto presentarmi con gli occhiali da sole perché voleva essere un po un tributo ai miei vecchissimi video in cui appunto mi presentavo con gli occhiali da sole spero che continuerete ad apprezzare il lavoro che sto facendo su questo canale e ci vediamo spero veramente dal vivo al drag me to fest il 18 e 19 novembre buona serata ciao